Salve a tutti, la mia lista pace, siamo qui a registrare questo video, il video aggiungamento non era previsto quando ho annunciato il prossimo video, il posto della partita delle derby, avevo detto che ci rivediamo prima di Milan, Juventus per il pre partita. Questo è un video aggiungamento, volevo raccontare quello che è successo in questi giorni, domenica mattina prima del derby, mi sono svegliato con un messaggio da parte del youtuber Il Milanista, dove mi diceva che volevo unirmi a un gruppo di altri youtuber. Io non ci ho pensato una volta, ho detto subito sì, vediamo cosa si tratta, ho visto che è una collaborazione insieme ad altri youtuber, che ora vi elencherò, quindi come ho detto Il Milanista, che ringrazio per questo invito, da me non ho aspettato, mi ha fatto una grandissima sorpresa, quindi lo ringrazio. Poi gli altri youtuber sono Ale Milanale, che saluto, come saluto Ale Passione Milan, Volto Il Milanista, Fabio Rossonero, Lavox Dieci, Marietto Milanista, Memi Bova, Ned Rossonero, Stefano Rossonero, Walter Rossonero. Vi mando pure un saluto, i miei fan, vi invito a seguirli su Youtube, chi è appassionato di Milan, chi è appassionato di calci come me e come tutti noi in questo gruppo. Vi aggiorneremo sempre sul Milan, e sono molto felice di far parte di questo gruppo di Youtube. Ne bene e male, forza Milan, un saluto a tutti i miei fan e ai fan di questi Youtube, speriamo un bene per il nostro Milan. Ci vediamo presto per il pre partita di Milan-Juventus e forse ho in mente pure un video live-reazione di Jura Milan. Vediamo.